Prima partita dell'anno per la ribelle ed era subito sfida da non fallire perché a Castiglioni sbarcava l'Adriese. Fanalino di coda per quanto riguardava il girone D della campionato di Serie D. Un match che i Ravennati avevano preparato con cura ma che al primo momento di difficoltà ha visto la ribelle andare subito sotto. C'è l'apertura di Arvia sulla sinistra per Mercandella, il lacrosse e toglie il tempo sostanzialmente alla difesa. Marangon per la prima gioia della sua partita, colpo di testa vincente 1-0 per l'Adriese che prova a chiudere già alla diciannovesimo con Marangon. Ancora lui, punizione che Caroli fa sua in due tempi. Andiamo alla venticinquesimo, calcio di punizione di Dallara. Palone che sfila per tutta l'area di rigore e nessuno riesce a trovare l'appuntamento con il gol. Un gol che invece trova successivamente l'Adriese, il diagonale di Marangon, la doppietta per lo scatenato numero 10 che sfrutta meglio l'assist di Zanellato e ribelle che a questo punto cerca di accorciare. Ce la fa al quarantunesimo, colpo di testa di Dalcompare sulla punizione di Dallara. Dalcompare che poi resta a terra contuso e infatti viene anche sostituito pochi minuti più tardi. Entra Azzori e all'inizio della ripresa all'ottavo è proprio Azzori a mettere al centro questo pallone su cui Bernacci però arriva in ritardo toccando a lato. Andiamo alla quattordicesimo, il palo centrato dalla lunga distanza da Zanellato. Poi al ventiquattresimo minuto la ribelle ancora in attacco. C'è la possibilità sulla sinistra per un cross. In area di rigore, colpo di testa tentato da parte di Lorusso. Pallone che però non arriva nel bersaglio grosso. Una ribelle che sta soccombendo ma di appena una rete. Dunque possibilità per cercare il pareggio che sarebbe d'oro. Ma qui il colpo di testa da parte di Perini è troppo centrale. Fa sua la sfera il portiere Bertasini. E allora classica legge del calcio, gol mangiato, gol subito. Siamo alla trentatresimo, cioè sette minuti dopo l'azione che abbiamo appena visto. La risposta grandiosa da parte di Carrogli sulla conclusione di Marangon. Ma si va sul calcio d'angolo e arriva la deviazione vincente di Colman. Tre a uno al trentaquattresimo minuto. E partita chiusa con la ribelle che a questo punto non riesce più ad abbozzare. Alla reazione cerca la tripletta Marangon. Conclusione che esce non di tanto. E dunque arriva una sconfitta sanguinosa per quanto riguarda la ribelle che cede in casa col punteggio di tre a uno all'Adriese.